Dalla cybersicurezza ai rischi per la privacy, dalle potenzialità dell'intelligenza artificiale ai cambiamenti nel mondo del lavoro, fino alla digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e alle evoluzioni del concetto di cittadinanza digitale. Sono stati tanti i temi al centro dell'edizione 2022 dell'Internet Governance Forum che si è svolto per la prima volta nelle Marche, ad Ancona, alla loggia dei mercanti. Ad organizzare la due giorni ricca di dibattiti in presenza online, la Camera di Commercio delle Marche, in collaborazione con l'Università Politecnica delle Marche, obiettivo dell'appuntamento mettere insieme i più importanti soggetti pubblici e privati del mondo economico ed istituzionale per ispirare la politica a fare scelte a misura di cittadino nell'ambito della gestione e dell'evoluzione della rete. Presidente, state cercando di dare risposte efficaci legate allo sviluppo delle imprese, in particolare alla sfida digitale. L'evento del fine settimana ne è un esempio concreto? Hai ragione, è un esempio concreto. Tieni conto che tra registrazione, chi ha seguito online e in presenza, parliamo di 2.500 persone. Un evento seguitissimo. Il GF, l'Assemblea Nazionale qui ad Ancona, ha destato quella curiosità importante per un mondo che è entrato appieno nel sistema delle imprese, delle relazioni tra le persone, con la pubblica amministrazione. Perciò, ecco, tenere alta l'attenzione con dei relatori importanti, arrivati anche da fuori della regione Marche, con imprenditori, con le università, con, diciamo, quei stakeholder che oggi danno quel valore aggiunto per comprendere appieno cosa è internet, dove può arrivare e cosa può essere di buono oppure di non buono internet per il sistema delle imprese, delle famiglie e delle comunità. Nel 2021, secondo Confindustria Digitale, 65% delle imprese italiane è investito in tecnologie digitali e il mercato delle tecnologie e dell'informazione e della comunicazione è arrivato a quota 44,6 miliardi di euro, sostenuto dalla forte crescita del PIL. Lo studio dell'Osservatorio Nazionale dei Punti Impresa Digitale e delle Camere di Commercio mostra inoltre come negli ultimi quattro anni la cybersicurezza risulti essere l'obiettivo tecnologico in testa agli impegni di spesa, con un incremento del 9,5% nel periodo 2018-2021. Le imprese marchigiane stanno investendo nell'innovazione e quanto è importante? È importantissima. Noi abbiamo un tessuto imprenditoriale e manufatturiero, fatto anche da piccole e micro imprese o medie imprese. E lì dovremo essere bravi. La Camera di Commercio sta lavorando fortemente sul fatto di digitalizzare il più possibile queste aziende. Sono aziende che hanno bisogno di sostegno economico per acquistare dei prodotti oppure dei software, hanno bisogno di formazione, di consulenza e noi con i punti di impresa digitali riusciamo a formare il più possibile in questi quattro anni, parliamo di oltre 4.000 aziende che sono state formate dal sistema della Camera di Commercio delle Marche tramite il proprio PID. Lì dovremo investire. Ecco la collaborazione con il dottor Felisetti, con le scuole, con gli ETS, con le università, con le associazioni di categoria, possono dare un valore aggiunto e trovare quelle connotazioni importanti da poter trasmettere ai nostri ragazzi per farli entrare poi nelle aziende a trovare quella giusta collocazione che magari loro desiderano. Un tema importante che tra l'altro comprende anche l'inclusione sociale? Oggi, se riusciamo a dare quella connotazione di umanessimo digitale che abbiamo lanciato in queste due giorni, sono sicuro che veramente dipende a quel valore aggiunto di sviluppo per le comunità, dove l'inclusione sociale di ognuno fa parte di una rete molto più forte per valorizzare tutti.